Arriva l'appuntamento con Dolce Farniente su Radio Nuova anche per questa puntata Moreno e Nazareno vi salutano e qui abbiamo una trasmissione oggi molto molto interessante Buongiorno a tutti, siamo vicini al Natale Ecco Il prossimo sabato l'avremo già superato A proposito, andiamo in onda il prossimo sabato Nazareno Faremo festa anche noi, perciò poi ci risentiremo Il 2 gennaio Il 2 gennaio, questa è l'ultima trasmissione del 2015 Dobbiamo salutare Bisogna onorare l'anno che abbiamo passato insieme Esatto E quale maniera migliore che avere ospite qui con noi un pittore di angeli Nazareno Bello, bello, un pittore di angeli Marco Monaldi Eccomi, presente Adesso puoi dare il buongiorno, io non l'ho sentito Buongiorno Una persona assolutamente spirituale Diciamola Per cui è proprio Con tutta questa materia oggi ci serve un ospite È proprio l'ospite adatto per avvicinarci al Natale E salutare questo anno in maniera più intima Più rivolti all'interno di noi stessi E lui lo fa in maniera egregia attraverso l'arte Soprattutto con queste ultime opere che ritraggono questi uomini Con queste ali bianche Si possono associare a degli angeli Ma poi lui ci spiegherà meglio il percorso che l'ha portato a configurare Questa espressione artistica in questi soggetti molto magnetici Li chiamerei così magnetici Magnetici e hanno anche qualcosa di molto Come dire Oscuro Chiamiamolo così Una parte Ci sono queste ali bianche Che danno subito l'idea Di candore Di candore e di purezza E di qualcosa di molto immaterico Lieve Ma poi c'è questo sfondo nero Dal quale emergono queste figure Anche molto contorte Spesso impose anche scomode Spesso più che dei voli Sembrano dei precipizi Si 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 È vero Ci sono queste contrazioni Contrazioni o contraddizioni Cosa sono? Ma sai Anche la contraddizione fa parte della natura È una natura umana Luce e ombra Luce e ombra Bianco e nero Bene e male Bene e male Sì Questa è la natura dicotomica E io la rappresento attraverso questi personaggi Questi uomini alati E sì Ci sono tante emozioni Sono le emozioni che ci appartengono Quindi non sono appunto angeli così eterici No Direi proprio di no No Mettono in discussione anche la figura classica dell'angelo Assolutamente Che è comunque con una veste candida Invece questi angeli hanno questi corpi nudi Quindi c'è qualcosa di profondamente carnale e allo stesso tempo elevato Esattamente Esattamente E qui appunto E qui si apre un mondo Che esploreremo con calma Ma quanto tempo fai questo tipo di esperienza con gli angeli? Eh bella domanda Praticamente da sempre Nel senso che è uno Io ho sempre disegnato fin da piccolo E uno dei personaggi che amavo disegnare erano appunto questi uomini con le ali A me hai avuto amici immaginari tu da piccolo? Diciamo che li creavo Li creavo Nelle mie avventure Sì Nel gioco Cerno Sì sì Parlavi anche tu Certo Ma questa abitudine di parlare sempre con qualcuno Esatto Chi ti sta vicino Qualche litigio pure Ogni tanto Ieri sera perché ieri sera abbiamo cenato insieme con Marco Allora siete preparati? Eh certo Sì sì Abbiamo studiato Improvvisarci Qui bisogna intrattenere i nostri ascoltatori in maniera Eh eh preparata I quali sono a loro volta preparati quindi Eh sono preparati all'accadimento In programma questa mattina Però ecco Dobbiamo Riuscire a creare tutto Eh un'atmosfera E un percorso lineare No? Ieri sera mi dicevi appunto Di quelli che sono stati una serie di simboli Che ti seguono da quando eri piccolo E che poi nel corso degli anni Eh hai trasformato in opere No? Sì Mi dicevi appunto Sì Eh Cosa disegnavo? Eh appunto Sì Da dove sei partito? Da dove sono partito? C'erano Ci sono stati appunto sempre dei soggetti Ricordenti Uno appunto erano questi uomini alati L'altro era l'Aquila E poi anche la Pantera Nera Era La Pantera Nera? Sì 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 E poi chiaramente nel corso Eh di tutto il mio percorso Eccetera Alcuni aspetti si sono evoluti E altri forse ancora devono Devono ancora richiedere spazio Sì esatto La Pantera per me è ancora molto da dire Ma sai La Pantera Nera Anche gli sfondi di questi angeli Il nero Il nero è un colore che io amo particolarmente E poi Non ripieta il nero Il colore dell'inconscio No assolutamente Certo Certo Per Jung l'inconscio era un cavallo nero Invece per te forse è una Pantera Nera Assolutamente sì Assolutamente sì Ma sai il nero è l'assenza Che però è anche pienezza È dal nero e dall'assenza che poi nasce tutto Il nero è anche quel colore che assorbe Tutti gli altri colori In qualche maniera li contiene tutti Esatto Perciò Esatto Bello questo fatto che dall'assenza Poi nasce una presenza E certo Niente è più presente di una cosa assente per me Come dicono poi i maestri Se non ci fosse stato l'oscurità Non avremmo avuto coscienza della luce Assolutamente La luce non può esistere senza l'esperienza del buio Esatto Il caldo non esiste senza l'esperienza del freddo È l'opposto che ci dà Tutto ciò che ci appartiene È nella natura di questo nostro mondo che ci circonda E sono queste le leggi poi fondamentali Assolutamente Come il bene e il male Esattamente Tu che rapporto hai con questa faccenda del bene e il male? Di questo parlavamo appunto prima Ma allora Io ho tutto il mio Credo Facco una sua filosofia Sì E ci piacerebbe esplorarla questa mattina Allora io appunto anche fin da piccolo Che avevo questi miei spazi di solitudine e interiorità Poi piano piano ho sviluppato tutta una serie di visioni della realtà E di quello che mi circondava Che poi hanno trovato riscontro molto nelle filosofie orientali Ah ho capito Mi sono avvicinato alle filosofie orientali E che dicono su questo? Ma che in realtà il bene e il male sono tutte e due la rappresentazione di una natura E soprattutto dell'uomo Cioè l'uomo attraverso il pensiero crea E quindi Quindi è dall'interno dell'uomo secondo queste filosofie che nascerebbero Il bene e il male non è esterno a noi ma è interiore a noi Come Dio ha contenuto in noi e in noi ha contenuto il male Esattamente Proprio nelle filosofie orientali c'è questo aspetto che per me è fondamentale Perché appunto ci dà una completa responsabilità Rispetto a ciò che siamo, ciò che facciamo, ciò che diciamo, ciò che pensiamo E in quello che vediamo fuori di noi Esattamente E il male che noi, l'esperienza del male, quindi l'esperienza di sofferenza eccetera Fanno tutto parte di un gioco da noi prodotto per tutta una serie di motivazioni Possiamo dire anche karmiche Certo, perché nulla comincia e nulla finisce Ma poi la sofferenza o comunque queste esperienze sono di stimolo per spingerci oltre Per andare oltre, per un'evoluzione E quindi poi fondamentalmente c'è anche la sacralità della sofferenza Perché senza la sofferenza noi non potremmo mai avvicinarci a quello che è poi la nostra natura fondamentale Quindi la sofferenza ci innalza in qualche modo Ma sì, ma questa è l'esperienza di questo mondo È una legge molto semplice ma fondamentale Una delle prime, credo, convinzioni anche della mistica, no? Certo In generale Sì, 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 sì Che attraverso la sofferenza si pervenga comunque a un avvicinamento al divino Assolutamente Ma sai, poi non è che bisogna vedere la vita come una... Che poi non è che uno si deve augurare di soffrire Appunto, non c'è una drammaticità Non c'è una... Non c'è una... Eh, appunto Diciamo che le filosofie orientali poi cercano, no? Di instradarci verso una consapevolezza che ci porti ad armonizzarci con quello che ci circonda Bravo, hai detto proprio la parola giusta Armonizzare, portare in tutti i contesti, in tutte le nostre situazioni Eh, questo... questa armonia che poi ha un po' di leggerezza Sì Poi alla fine, no? Beh, l'armonia poi già dalla musica si distingue, no? Assolutamente Uno che ha un po' d'orecchio sa quanto è bello sentire un brano armonizzato E secondo queste filosofie Il particolare che salta di più all'attenzione è questa richiesta di distacco Che ci viene proposta, no? Distacco dalle cose persino da noi stessi ad un certo punto Osservarci dall'esterno Assolutamente, sì Per riuscire ad essere un po' al di fuori delle dinamiche emotive, no? E mentali che poi ci guidano in meccanismi che ci intrappolano spesso anche Nel costruirci delle realtà sempre uguali e ripetitive Assolutamente Ma sai, le emozioni non sono da demonizzare No, assolutamente Ma sono poi, diciamo, è l'energia che ci spinge a un coinvolgimento più o meno forte Con una relazione, con una situazione, eccetera Ed è questo su quale dobbiamo un po' lavorare Però io aspetto perché io voglio sapere cos'è l'energia a questo punto E beh, e beh, e se no L'energia, ma che è questa energia? L'energia, l'energia è tutto Noi siamo energia, no? È tutto e uno, nel senso che Noi siamo energia Che poi con una certa vibrazione Ci materializziamo, no? Nelle nostre carne, ossa, eccetera È un po' l'idea, no, Nazareno? In quello che è il nostro credo Essere un po' figli di Dio, no? Ossia c'è Dio e ogni essere umano è figlio di Dio In quanto parte di Dio Il discorso è un po' quello, no? Dio è una forma energetica Assolutamente E noi, chiaramente, scesi in questo corpo Abbiamo comunque la stessa energia divina, no? Ho capito, perfetto La gemma Perfetto La gemma? Sì, 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 sì Eh sì È un po' l'albero della vita, no? Viene raffigurato questo albero con le foglie E noi siamo una fogliolina di tutta questa chioma Ma non si potrebbe mai prescindere Perché tutte le foglioline poi formano la chioma dell'albero Guarda a scartarne qualcuna Eh no, vabbè Oggi, oggi Ma sai cosa? Ma poi c'è anche che le foglie possono essere tutte diverse l'una dall'altra E la cosa bella è che, appunto, dovremmo un attimo lavorare su questa cosa Sulla diversità Che la diversità Questo è un problema grosso, sì Questo è un problema grosso Soprattutto in questo periodo Anche perché la diversità richiede l'unità E l'unità richiede la diversità Bravissima, bravissima Questo è il grande dramma La diversità è la ricchezza La diversità è la ricchezza di questo mondo Che, appunto, dovrebbe essere proprio quello a spingerci, no? A conoscere l'altro Ma andare proprio alla ricerca del nostro seme personale Che è diverso da persona a persona E non cercare di lavorare su questo seme affinché diventi simile a un altro Cercare ognuno il nostro, il nostro dono personale Ma guarda, esatto Ognuno di noi ha il suo talento Ognuno di noi ha le sue caratteristiche E ad andare fieri, no? In qualche maniera Assolutamente E soprattutto avere la percezione dell'altro Nella sua diversità Ed è proprio quella diversità che dovrebbe unire Piuttosto che dividere Perché poi è questo il gioco Arricchisce, no? Però attenzione, la diversità può unire Però bisogna trovare qualcosa in comune Perché altrimenti come si fa ad unire? La voglia di avvicinarsi Trovare bella la diversità Nel momento in cui la trovi bella Ti unisce perché io sono stimolato dalla tua diversità Io sono sempre stato un tipo curioso Quindi tutto ciò che era diverso da me T'attraeva? Io sì Io vado Ma è questo poi il bello Questa è l'esperienza Cioè vai verso quelle cose che non conosci Come appunto la mia esperienza in Brasile adesso, no? Che mi ha portato a spingermi a fare questa cosa Ok, non conosco Popolo nuovo Esperienza nuova Cosa scoprirò di me là? Esatto Esatto, esatto, esatto E infatti dopo un anno e due mesi Appunto l'altro giorno parlavo anche con mia madre Rispetto ad alcune mie reazioni Che ho avuto qua in questi giorni, no? E gli ho detto Mi sa che sono un po' cambiato Di questo ci racconto tra poco Perché facciamo la prima pausa Vai Allora Cosa ascoltiamo? Marco ha scelto per noi tre brani di Ludovico Einaudi Sì Ci introduce un attimo Non è l'ex presidente della Rubi No Neanche il fondatore della casa È parente, è parente È parente Sì, sì E vabbè Ludovico Einaudi Io l'ho scoperto qui in Italia Credo cinque anni fa O sei anni fa Ho assistito a dei suoi concerti Ne sono rimasto completamente affascinato E lo trovo molto vicino anche al tipo di arte che io faccio E infatti sarebbe splendido un giorno poter inaugurare una mia mostra con lui che suona il piano E questo, su questo sogno che noi mettiamo il firmacarta e lo realizzeremo Magari con l'aiuto della nostra Loredana Finicelli Noi la salutiamo perché ci sta ascoltando Allora Loredana mi raccomando muoviti Vai, vai Comincia a contattare qui Ludovico Einaudi perché con Marco dobbiamo fare grandi cose Il primo pezzo è Nightbook Esatto Torniamo con Dolcefardiente Morena, Facebook o questa? Perché è un pezzo che non te lo chiedo Facebook è aggiornato con le ultime cose che abbiamo proposto qui da noi Non proprio tutte e tutte, qualcosa manca Però abbiate fiducia perché sapete che anch'io vado un po' in giro ultimamente Sono tornata proprio questa notte da Verona Sono andata a vedere alcune mostre molto belle e interessanti Non sei andata all'arena? Ma l'ho visitata esternamente Nazareno All'interno dell'arena ci sono dei presepi credo internazionali nel periodo natalizio Non sono andata a vederli Nazareno perché anch'io sono finanziariamente un po' a corto Devo contenere le spese E non ritenevo di poter spendere un ulteriore biglietto per andare a vedere i presepi Però ogni anno all'interno dell'arena di Verona ci sono questi presepi internazionali Credo che ogni anno li cambiano Perciò se volete Andate pure a vedere Sotto Natale Poi ci riferite Dentro l'arena di Verona ci sono i presepi Noi siamo andati a vedere la mostra di Tamara De Lempisca E degli impressionisti Post impressionismo Impressionismo era sì Con Van Gogh E via dicendo Nazareno Dai ma stamattina siamo qui per parlare Andiamo in Brasile Andiamo in Brasile Di Marco Monaldi della sua arte e ci stava un po' raccontando del suo viaggio in Brasile Sì esatto Dici un po' che realtà c'è in Brasile? Oh ebbè è una realtà brasiliana molto frizzante Ecco a parte le belle ragazze in costume di Copacabana Copacabana è in realtà piuttosto frizzante ma sai dove c'è il sole io adesso vivo nel nord est a Recifi che è una città sul mare e dove c'è praticamente sempre caldo Quindi c'è il sole dieci mesi all'anno Però non sei abbronzato com'è questa cosa? No perché sto lavorando Sto facendo il bravo ragazzo Ecco Ma com'è un caldo umido oppure... È abbastanza umido sì E adesso appunto in questo periodo dove qui c'è l'inverno quindi il freddo là c'è l'estate ci sono 35 gradi Oddio veramente c'è stato tanto freddo fino ad adesso non ce l'abbiamo però Ma io ho sperato in effetti eh Anzi ho fatto anche due chiacchiere con qualcuno lassù Fammi tornare ma non mi fa sentire troppo freddo perché a me non piace Forse è per te che ha fatto questa cosa Ho portato un po' di sole Non sei forse più neanche abituato No Decisamente no Ma adesso devo dire che però dai questo tempo è anche abbastanza mite Abbiamo avuto un autunno insolito Bene Un autunno insolito Poi dopo che riparto puoi fare quello che vuoi Grazie Ma che riparti tentato per regolarci 30 di dicembre Il 31 di dicembre arriva il freddo Tempo da lupi in Alzareno Quando Marco sopeva Dopo dopo avremo magari l'estate fredda Chi lo sa Chi lo sa Ma il Brasile dici come vivi in Brasile Che fatti Allora il Brasile è stato uno stimolo Uno stimolo La voglia di fare un'esperienza nuova Di uscire un po' fuori da quelle che sono Ti sentivi un po' in crisi anche dal punto di vista artistico? Sì c'era un po' questo fermo Avevi esaurito l'ispirazione La spinta Perché accade no? Accade esatto Accade la necessità di fare qualcosa di nuovo Di essere stimolato da Anche una cultura nuova E niente Poi ho preso la palla al balzo E sono andato Vediamo che succede E vediamo quello che succede È stato un anno pieno Pienissimo Cosa hai scoperto di Marco là? Che in realtà Tutta questa bella facciatina Che magari proponevo Tuna cata Esatto La non so perché Sarà per questo sole Per questa energia Che forse è anche più diretta Più dirompente Più dirompente Sono diventato un po' più diretto Sono diventato un po' più Solare Ma guarda sai Poi essere diretti E dire quello che si pensa A volte non è sempre No 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 È la maniera migliore Per passi dai nemici E per vivere male Quindi a volte Devo un po' tirare il freno a mano E questa cosa qua Non mi capitava poi così spesso Cioè non perché uno Non debba dire ciò che pensa Ma sai C'è sempre un po' di diplomazia Un po' Adolcire le pillole La no Non so perché Ma mi viene così diretto Forse anche Sai cos'è Io penso anche sia la lingua Ma sono anche più pronti A questo tipo di atteggiamento Secondo te? No assolutamente no Dopo Dopo Affrontano eh Allora i miei amici I miei amici Mi dicono Che sapevano che io Stavo per partire per l'Italia Mi dicono Marco Tu Ci mancherai a me Noi ti mancheremo E io ho detto La prima settimana no Ci sono rimasti così Non ci sono abituati No Ci dici qualcosa in portoghese Visto che L'hai imparato la lingua Dici qualcosa in portoghese Dai Posso parlare in portoghese Sì dai Buon dia a todo il mondo Buon dia a todo il mondo Anche perché Può essere che via internet Qualcuno dal Brasile Ci stia anche ascoltando Pois è Colochei un post Colochei un post No Facebook Colochei un post No Facebook Pra Perché Agora Io sono un artista Un poco Mais Internacional Eh sì dai Ci piace Questo tocco esotico Questa mattina Diamoci un po' di Visto che a Capodanno Nazareno Si comprano I frutti esotici Mi sembra tutto perfetto Questa mattina Questo tocco di Esoticità Che Marco Ci ha portato in studio Ma com'è una tua giornata Brasiliana Per esempio Allora Io da poco Ho aperto una galleria d'arte Con un mio amico Un mio socio Brasiliano Ma era interessante Di ieri sera Quello che mi dicevi Di come la concepiscono Diversamente l'arte E di che differenze Ci siano Allora ci sono Allora Se dobbiamo fare dei paragoni Rispetto all'Italia Ci sono differenze Sostanziali Materiali Proprio Ad esempio Io vivo in una città Di un milione e mezzo Di abitanti E le città Più E le gallerie Più Importanti Si contano Nel palmo Di una mano Se tu vai In una città Qua Di un milione e mezzo Di abitanti Ci sono 50 60 gallerie D'arte Quindi Già c'è questa forte differenza In più L'arte E gli artisti Sicuramente sono Meno artisti E quegli artisti Hanno tutti Una forte influenza Sia nel colore Ma anche nello stile Un'influenza data Anche Dalle loro origini Perché Come sapete Il Brasile È stato È un mix Di Del popolo negro Del popolo Indio Del popolo portoghese Olandese Eccetera E tutto questo Un po' Chiaramente È influenzato Una La loro arte C'è una forma Anche di approcciare Alla figura In modo Più Primitivo Di un colore Molto più forte Molto più acceso Eccetera E io Che sono poi Un artista Del bianco e nero Quasi Quasi Sì Come la tv Di una volta Esatto Guardano le mie opere Dicono E questo Chi è? Che cos'è Questa roba E no Devo dire che C'è una forte attrazione Un forte interesse Sul mio lavoro E sul mio percorso artistico Anche perché poi Tu porti Anche senza volerlo No? Sulle spalle Tutta quella che è La tradizione Della pittura italiana Infatti Come sai Io mi sono formato All'Accademia di Belle Arti Di Firenze Quindi ho vissuto Per i miei cinque anni Anni meravigliosi Con I più grandi Del rinascimento Quindi il mio occhio Si è abituato Al bello Al bello A un'estetica Alla forma Alle linee Insomma Ed è quello che io sto portando là Ed è quello che mi chiedono Quindi Insomma Incontro artisti Che appunto Vogliono imparare Mi piace molto Questa anche Questa forma Di umiltà Che hanno Alcuni Vogliono imparare Similare Quest'occhio Classico No? Sì Classico Certo Che non è proprio Magari del tipo Di cultura artistica No 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 Assolutamente Più tribale Chiamiamola così È un po' più tribale Sì È un po' più tribale Poi chiaramente Incontri artisti Anche Differenti Loro poi amano L'Italia Quindi ci sono artisti I brasiliani Che sono venuti in Italia Appunto Ad apprendere Quella che è La nostra cultura La nostra tecnica E Ho incontrato anche Insomma Artisti Che Fanno un buon lavoro E sull'onda di questo Dicevi che Hai intenzione Di cominciare a dare Lezioni Esatto Lezioni Infatti a gennaio Comincerò Dei corsi Di disegno E di pittura Un po' Alla vecchia maniera Che cosa farai fare A questi Sarò cattivissimo Cattivissimo Però questo è un incontro Di cultura No assolutamente Beh cominceremo Sicuramente Dalle basi Il mio Appunto Il mio approccio Come si comincia? Col disegno Il disegno Guardare E imparare a guardare Imparare a guardare Come la luce Si muove Sopra un corpo Perché è la luce Che forma È la luce Che dà pienezza È la luce Che è nella sua assenza Quindi l'ombra È proprio questo Il gioco Che crea La forma No? E comincerò Sicuramente Con getti solidi Le solite banane Le mele Le bottiglie La piramide Le nature morte Le nature morte Eccetera Eccetera Fino a chiaramente A trattare Lo studio della figura Esatto Lo studio della figura Il volto Il studio complesso Che è una cosa Molto più complessa Senti Riguardo Siccome anch'io Disegno Per cui ho delle Delle curiosità mie Non ci andavi in Brasile Però No Dai Morena Vieni Che ti diverti Mi metto un costumino E vai Riguardo ai volti E alla figura umana Sì Io ho questa convinzione Che potrebbe essere sbagliata Soprattutto legata ai volti Che Debba esserci una sorta di Predisposizione particolare Per il volto Perché non tutti gli artisti Riescono A essere Incisivi Nel volto Ci sono volti Più espressivi Rispetto ad altri Volti che riescono meglio Per me il volto Richiede Una spinta interiore Diversa Ma sai Il volto Al di là Delle difficoltà Tecniche Quando noi ci confrontiamo Con un volto Ci confrontiamo Ancor più Con noi stessi Il fatto è Che Ogni artista Ha Una base Psicologica Ha Un background Particolare E che Comunque Porterà Nel volto Che andrà A disegnare O a dipingere E quindi Appunto A di là Della tecnica Bisogna vedere Anche cosa c'è Dietro A tutto questo Certo Poi ci sono Dei ritrattisti Ci sono C'è chi è più portato Per il ritratto Chi più fa i fiori Assolutamente E perché un volto Deve essere un volto Deve rappresentare L'anima O comunque Se non l'anima Di chi ritrai La tua anima Perché poi c'è sempre Una forma di traduzione Assolutamente Quindi no Questo è un universo Questo contatto con l'anima Mi pare molto interessante Eh sì Vabbè Gli occhi Lo sguardo L'espressione della bocca Poi credo che ogni artista Si attratto Io ad esempio Ho proprio Una fascinazione Per la figura umana E il volto Per cui Nel mio disegnare Mi sono sempre Più concentrata Sulla figura Che non Sugli oggetti morti Ma proprio perché c'è Beh Un'esigenza mia Ma infatti Anche per Per quanto mi riguarda Pur Ma avendo Anche tu Io dipingo anche fiori Si però Credo che Natura e morte Ma Il lavoro che io faccio Con gli angeli O comunque con Questa Espressività Corporea Non ha Non ha paragoni Perché poi a me piace Molto Al di là del volto Si Io dipinto anche i volti Forse a me piace Proprio L'emotività Che riesco ad esprimere Attraverso un corpo Il linguaggio Il linguaggio del corpo Tutto quello che il corpo Senza parole Riesce a trasmettere Poi è chiaro Il volto È un qualcosa In più Che magari Tratto In modo distaccato O comunque diverso Però sicuramente Insomma Sì Nei tuoi angeli Comunque Perlomeno Quelli che adesso Riesco a ricordare I visi Non sono mai L'aspetto principale Infatti Sono sempre Presi da un'angolazione Io ho voluto esprimere Quella che è Un'emotività Abbastanza universale Senza dare Senza identificare Che vuol dire Spiegaci Questa emotività universale Ma sai La felicità È un'emotività Universale Nel senso che Tutti vogliono essere felici La paura La paura Ci sono emozioni Che sono un po' di tutti Ci sono emozioni primordiali Che ci appartengono Dolore Felicità Paura A tutti E appunto I miei angeli Rappresentano Queste emozioni Senza che Si identifichino In qualcuno O in qualcosa Ma rappresentano Un messaggio Più universale Sono In un certo senso Più Neutri quasi No? Da punto di vista Dell'identità Esatto Però molto carichi Di questo linguaggio Extraverbale Esatto Esattamente E questo è molto È forte come impatto Perlomeno ne ho visti dal vero Credo di averne visto uno Però anche dalle foto È una cosa Che viene fuori molto Molto Facciamo un'altra pausa Perché siamo quasi In dirittura finale Di già Di già Il tempo passa veloce Passa veloce Quando si parla di cose interessanti E quando ritorniamo Ai nostri microfoni Parliamo del silenzio Che è un argomento a te Molto caro Certo E che ci tieni particolarmente A condividere con noi E poi una carrellata Ulteriore Su quelli che sono i tuoi lavori Perché non è che Marco Abbia dipinto Soltanto Angeli Ha dipinto Anche altre cose E Anche terrestre Ecco Ci piacerebbe Sapere i quali Va bene Il prossimo pezzo È sempre di Ludovico Einaudi Lady Labyrinth Grazie 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 a tutti